Il mondiale di barbecue, la finale di Grigliero Venti di Esolo 2014. E uno, e due, e tre, si accendono i fuochi! Non è mai abbastanza efficace la forza delle parole a fronte dello straordinario spettacolo di colori e sapori garantito da Grigliero Venti. La manifestazione è nata per celebrare la passione della carne al barbecue, concepita nella maniera meno tradizionale, ovvero arricchita da aromi e tradizione del territorio di appartenenza. Al punto che non solo coppie di cuochi non professionisti da tutto il nord-est, ma pure dal resto d'Italia, dalla Francia, dal Brasile e da Cuba, si sono ritrovate nella serata finale di un appuntamento ormai tradizionale per il Veneto. In riva al mare di Esolo, località balneare veneziana, costicine, salsicce e braciole sono state preparate in maniera sapiente ed originale per il severo verdetto di una qualificata giuria che ha tenuto conto non solo della qualità del piatto, ma pure della presentazione e della simpatia dei suoi creatori. Tutto Veneto il coppio, con una coppia mista, mestrina-sappadina, come dire, dalle montagne al mare, davanti a due ragazzi vicentini e a un lei-lui veronese. Tutti rigorosamente rispettosi delle tradizioni culinarie di pertinenza geografica con cui hanno arricchito i loro piatti. Bravo per i poti! Ma al di là della gara vera e propria, tra i profumi delle griglie, con qualche VIP che si aggirava incuriosito, ha vinto l'atmosfera gioiosa e goliardica dei partecipanti, la cui voglia di divertirsi e condividere le proprie creazioni è stata l'autentica ricetta vincente della serata jesolana. Impreziosita dalla conduzione di Claudio Militello e di un sempre sottilmente spiritoso, a dispetto della non più verde età, Bruno Pizzul, che hanno voluto inevitabilmente dedicare un tributo ai dimenticabili mondiali calcistici brasiliani, soprattutto per ricordare, con un simbolico morso collettivo, uno dei momenti più emozionanti del torneo, l'odontoiatrico colpo proibito dell'uruguayano Suarez al difensore azzurro che è lì.